Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale con il cane. Paura ieri sera per un veicolo finito nel fiume. Grave incidente stradale a Pocenia, in condizioni serie all'ospedale di La Pisana, una donna del luogo. Un agente della questura di Pordenone fuori servizio salva con defibrillatore la vita di un turista austriaco colto da infarto. Insediato il nuovo consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con il presidente Massimiliano Pedriga, è iniziata la dodicesima legislatura. A Udi nelle prime nozze gay dell'era del centrodestra, a celebrarle il neosindaco Pietro Fontanini. Ben ritrovati dunque con l'informazione di Telepordenone. Grazie ancora una volta gentili telespettatori per aver scelto la nostra emittente televisiva. Una giornata sicuramente impegnativa su più fronti, soprattutto quello degli incidenti stradali. Vi racconteremo anche di un incidente mortale che si è verificato ancora una volta in autostrada. Una giornata anche che ha visto così esaltare le gesta eroiche di un poliziotto in servizio nella questura di Pordenone. Vi racconteremo appunto anche questa avventura a lieto fine, ma soprattutto anche questa chicca che ci ha lanciato il nostro collega Omar Costantini delle prime nozze gay celebrate da un sindaco leghista, dove il tutto succede a Udine. Andiamo con rapidità. La domanda che vi abbiamo proposto nell'edizione precedente. Lega e Movimento 5 Stelle propongono Giuseppe Conto, un giurista alla guida del prossimo governo. Siete d'accordo? Sì il 56% di voi, noi invece restante 44%. Tra altre cose oggi Mattarella ha preso del tempo, ha congelato per il momento l'ipotesi Conte e guarda caso chi rispunta, rispunta il buon Di Maio, leader appunto del movimento pentastellato. Quindi insomma mi sa che Cara Agnese è una barzelletta in salsa italica, no? Così si dice. Vabbè. La domanda che invece vi proponiamo in questa edizione? Allora, è cominciato il Ramadan. Cos'è Ramadan? È il mese in cui i fedeli islamici digiunano per commemorare la prima rivelazione del Corano a Mahomet. Allora, islamici a digiuno in Ramadan mettono a rischio la sicurezza. Allora, il fatto piuttosto curioso è che queste dichiarazioni bizzarre arrivano direttamente dalla Danimarca. Però, insomma, sappiamo che l'islam è religione ormai del mondo e anche in Italia ci sono moltissimi, c'è una percentuale piuttosto elevata appunto di persone che professano appunto la fede islamica, quindi credono in Mahomet, in Allah, insomma in chi volete e in chi vogliono loro e quindi il pericolo potrebbe essere anche radicato nei nostri territori, nella nostra zona. Il digiuno durante Ramadan mette il paese in pericolo. A lanciare l'allarme è stato il ministro per l'integrazione danese Inger Stoiberg, secondo cui i musulmani non dovrebbero lavorare durante Ramadan perché il digiuno cui si sottopongono mette a rischio la sicurezza in alcune professioni rendendo questa pratica peicolosa per tutti i cittadini. Lo dice quindi il ministro per l'integrazione danese Inger Stoiberg. Cosa ne pensate? Ripeto, non è soltanto la Danimarca ad avere a che fare appunto con la religione islamica ma appunto anche il nostro territorio, la nostra regione ma anche l'Italia. Cosa ne pensate? Siamo a rischio sicurezza adesso che è cominciato il periodo dell'era Ramadan in cui appunto i fedeli islamici digiurano per commemorare la prima rivelazione del Corano Maometto. Ce lo fate sapere se lo ritenete opportuno 393 93 24 336 e mail telepordenone.it. Vi ricordo anche la diretta streaming sul nostro sito www.telepordenone.tv. D'altra cosa c'è appena arrivata una notizia in redazione che si è verificato un grave incidente a Rivarotta di Pasiano. Dovremmo forse avere anche delle notizie più dettagliate, più accurate tra qualche minuto. Un'auto è finita nel fosso in zona Villa Lupis. Vi ricordo appunto come vi dicevo a Rivarotta di Pasiano. Un'auto per cause al vaglio della polizia stradale proprio è caduta, è finita, è precipitata nel fosso, si è capottata. Stanno operando proprio sul posto i vigili del fuoco da Treviso perché come ci dicevano la partenza da Pordenone è in questo momento impegnata e si è appunto il posto è stato raggiunto anche da personale del 118 giunto anche con l'elissoccorso. E tre persone sono decedute carbonizzate e sei mezzi coinvolti. Vedete queste immagini catastrofiche. Questo è il bilancio del tragico incidente avvenuto quest'oggi alle 12.10 in A31 poco prima del casello di Albettone e Barbarano in direzione in Vicenza. Da una prima ricostruzione una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente accaduto qualche centinaio di metri più avanti è stata tamponata da un camion. Dopo l'urto tre auto hanno preso fuoco. Il guidatore di una delle tre vetture è riuscito a scendere mentre due occupanti di un'auto e il conducente dell'altra sono rimasti praticamente bloccati. I pompieri di Lonigo e Vicenza hanno spento il rogo delle tre vetture. Niente da fare purtroppo per gli occupanti. Soccorso è portato in ospedale dal suo M118. Il conducente è riuscito a scendere dall'auto in fiamme. Il leso il guidatore di un'altra vettura, il conducente del furgone è cassonato e l'autista del camion. Quattro invece i feriti del primo incidente dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Est sul posto la Polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada. Vi ricordo che le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto ed è stato chiuso il tratto autostradale dell'incidente. Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale con il cane. Paura ieri sera a Caorle per un veicolo che precipita nel canale Saetta. Il servizio. Perde improvvisamente il controllo dell'auto e finisce all'interno del canale. Paura ieri sera attorno alle 22.30 a Caorle dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nei pressi del ponte Saetta per un veicolo finito in acqua. A bordo una conducente che viaggiava in compagnia del cane. La donna, una tedesca, è riuscita a venire fuori autonomamente dalla Fiat Panda ed è stata soccorsa da un'imbarcazione in navigazione. Anche il cane è riuscito a mettersi in salvo guadagnando la riva. La fuoriuscita è avvenuta su un tratto di strada bianca del Palangon, normalmente percorso da biciclette. Le squadre dei pompieri arrivate da Portogruaro e da Mestre con i nucleos mozzatori e l'autogru hanno operato per diversi minuti al fine di recuperare l'auto completamente sommersa. La donna, spaventata e infredolita, è stata assistita infine dal personale delle SUEM 118. Ha riportato ferite lievi. Ecco, vediamo degli aggiornamenti sull'incidente appena avvenuto a Rivarotta di Pasiano in zona Villa Lupis. Ci dicono che sono due le auto coinvolte per uno scontro quasi frontale, tre feriti, due sono finite all'ospedale, uno in gravi condizioni è stato elitrasportato a Udine. Quindi queste sono le ultimissime. Parliamo di un grave incidente stradale che si è verificato a Pocenia in codice rosso, quindi in condizioni critiche. La Tisana finisce una donna del luogo. Una donna di 75 anni si trova ricoverata in gravi condizioni a La Tisana. La strada che collega Torsa a Pocenia. Per causa del vaglio dei carabinieri di La Tisana, la donna, la guida della propria utilitaria, è finita nel canale scolmatore che scorre parallelo alla sede stradale, rimanendo ferita gravemente. Sul posto hanno operato i sanitari dell'ospedale di La Tisana e una squadra dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure, la 75enne è stata trasferita al nosocomio del capoluogo della riviera friulana, prognosi riservata. È stato riaperto in mattinata il raccordo autostradale 13 che collega il raccordo autostradale Trieste-Sistiana al valico di Fernetti, dopo l'incidente che ha coinvolto un'autocisterna. Omar Costantini. Nella tarda mattinata si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e bonifica della sede stradale. Dopo l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo raccordo autostradale 13 Trieste-Sistiana, nei pressi della bretella di collegamento verso l'ex valico internazionale di Fernetti. Un'autocisterna per causa al vaglio della Polstrada di Trieste, mentre procedeva in direzione del capoluogo regionale che trasportava ossigeno liquido, si è ribaltata. Nel violento impatto, che non ha coinvolto altri mezzi e persone, l'ossigeno ha iniziato a uscire dalla cisterna. L'arteria è stata interdetta al traffico. L'autista non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, tra queste anche il reparto nucleare biologico-chimico-batteriologico di Venezia. Già alle prime luci dell'alba è stata riaperta la corsia in direzione dell'autostrada A4, mentre la corsia opposta in direzione Grande Viabilità nel primo pomeriggio. E sono cominciate come da programma le operazioni per demolire la Casa Basso, l'edificio che si trova a lungo via Vittorio Veneto a Brugnira. Vedete anche queste immagini realizzate nel pomeriggio di oggi dal nostro operatore Davide Muccillo, coinvolto nel movimento franoso della sponda dell'ivenza. Un cedimento che negli ultimi mesi si è aggravato molto velocemente. Tutto secondo programma, spiegano i proprietari dell'edificio. In qualche giorno la casa sarà completamente abbattuta e così uno dei motivi che causano un pericolo per la pubblica incolumità sarà eliminato. Ma non è l'unico, perché ora si dovrà intervenire per bloccare la frana della sponda. Rimaniamo pertanto in attesa di capire come e in che misura saremo risarciti, proseguono giustamente i proprietari dell'immobile, perché una legge regionale stabilisce proprio che in casi come questo ci sia un indennizzo per il danno provocato e spetta la nuova giunta regionale, quella che tra le altre cose si è insediata oggi a Trieste a guida di Massimiliano Fedriga, approvare appunto il regolamento attuativo. Se da un lato la demolizione della casa servirà per eliminare un pericolo, sembra che comunque tale operazione non sia sufficiente per riaprire via Vittorio Veneto al traffico in entrambi i sensi di marcia. Si dovrà poi verificare se l'abbattimento del fabbricato sarà sufficiente a bloccare la frana della sponda, una situazione che in molti riconducono, e queste insomma sono delle ipotesi poi anche da acclarare, da accertare, ai lavori eseguiti nell'estate del 2017, quindi dell'anno scorso, per lo sghiainamento di un tratto dell'ivenza in località Ponte Sotto, che avrebbe di fatto aumentato la velocità delle acque e di riflesso anche l'azione di erosione della sponda proprio nell'ansa prospicente via Vittorio Veneto e una parte del centro storico quindi della cittadina della, diciamo, del paese, ecco, di Brugnera. Abbiamo ricevuto anche una telefonata da parte del sindaco Dolfi impegnato in lavori di giunta, dice che insomma se riesce a liberarci potrà essere anche presente i nostri studi per darci delle delucidazioni maggiori appunto sul accaduto. Giornata sicuramente questa inficiata dal maltempo, la vedremo e vediamo con Arturo Puccilo le condizioni meteo per i prossimi giorni. Arturo, prego. Buonasera a tutti. Allora la situazione meteorologica vede anche per la giornata di domani una fase di passaggio di un fronte che sarà però piuttosto modesto, quindi c'è l'ingegno nuvoloso, qualche rovescio temporale specialmente di pomeriggio, locale naturalmente, e potrebbe interessare un po' tutte le zone specialmente tra zona orientale, pianura e fascia prealpina, ma anche le altre zone non sono del tutto esenti da rischio. Temperature tra 15 e 27 gradi in pianura, 18, 24, 25 lungo la costa, 20 in regime di brezza. Giovedì comincia a prevedere un'alta pressione, ma rimane dell'instabilità pomeridiana, quindi ancora nuvolosità variabile, più sole verso la costa, specialmente ovest, più nubi in montagna, specialmente sulle giulie, qualche locale temporale pomeridiano si innesca tra prealpi e confine orientale con la Slovenia e Carso, qualche temporale potrebbe espandersi temporaneamente verso le altre zone della pianura della costa. Ventilibrezza, temperature stazionarie, venerdì ancora possibile qualche isolato temporale pomeridiano, ma in un contesto di cielo poco nuvoloso, quindi più sole e più caldo, un po' di volino sulla costa, temperature 18, 29, anche 30 localmente in pianura alle massime, 20, 26 lungo la costa. Per il fine settimana ancora tempo, cielo poco nuvoloso, leggermente più stabile, quindi meno rischio di temporale anche in montagna e temperature in aumento, quindi di nuovo 30 gradi in pianura. Direi che per ora è tutto, buona serata. Grazie come sempre a te Arturo Pucillo, Osmer Arpa del Friuli, Venezia Giulia, grazie soprattutto per questa collaborazione che continua ormai da anni. Una persona è ricoverata da tempo in ospedale a Udine con i sintomi indicativi della malattia di Kreuzfeld-Jakob, lo si apprende da fonti ospedaliere e la persona affetta sarebbe del luogo. La patologia da cui affetta è secondo quanto precisato dalle stesse fonti e rara e non contagiosa. La causa sarebbe dovuta a un agente prione interno e non da agenti esterni. La malattia appunto in oggetto è una forma di encefalopatia spongiforme umana. Questo appunto è il referto nel cui ramo rientra anche il cosiddetto morbo della mucca pazza diffuso a fine anni 90. E parliamo di quel poliziotto della questura di Pordenone che ha salvato la vita ad un turista austriaco. Oggi l'abbiamo incontrato in questura a Pordenone. Ecco le sue dichiarazioni assieme a quelle del questore Marco Odorisio. Ricordo che c'ero praticamente, non sentivo nulla, non vedevo nulla, c'erano 100 persone nella sala, tutte sedute perché poi mi sono accorto dopo e non le vedevo praticamente. C'ero concentrato in quello che stavo facendo e quindi per questo penso che è importante che così si riesce a far bene questo tipo di intervento perché è importantissimo. Ci sono ad esempio delle cose che quando viene scaricata la scossa dal defibrillatore bisogna allontanare tutte le persone che ci sono nelle vicinanze perché altrimenti potrebbe essere che uno prende la scossa lo stesso. Quando magari nella concitazione può succedere che qualcuno non si stacchi che è lì, che magari la moglie che era lì vicino. Quindi è importantissimo essere lucidi e questo mi sono reso conto di questo, che sono stato sempre lucido e ho fatto insomma quello che mi è stato insegnato di fare, questa cosa insomma. Ci racconta un po' la scena, lei stava, era lì nelle vicinanze? Sì, ero in piazza a Valvasone, è uscito una persona da questa sala da ballo gridando che c'era una persona a terra accolta da malore e che c'era bisogno di un defibrillatore. Io ho il corso BLSD e sapevo che nelle vicinanze fuori da uno sportello bancario lì della zona c'era l'apparecchio, quindi sono andato di corsa a prenderlo e sono andato dentro alla sala Un chilometro circa la distanza con la macchina. Sì, esatto, e sono andato subito dentro la sala dove c'era una persona che stava rianimando cioè stava facendo il massaggio cardiaco e che poi ho saputo che era un medico e gli ho applicato le piastre del defibrillatore, l'ho acceso e poi il defibrillatore ha fatto tutta la sua analisi e abbiamo mandato una scarica e dopo un po' la persona ha incominciato di nuovo a muoversi leggermente e quindi poi nel frattempo è arrivata l'ambulanza che l'ha preso in carico, i sanitari l'hanno stabilizzato e l'hanno portato via. Al di là di come andrà a finire giustamente l'auspicio che riesca a salvarsi e quindi tornare in auta, si sente un po' un eroe? No, assolutamente, cioè il nostro mestiere, cioè io un po' tanto con la polizia e in più poi col soccorso alpino, cioè facciamo queste cose perché ci va di farle e non mi sento assolutamente un eroe. Un atto di estrema generosità, di grande altruismo che ha permesso proprio di salvare quest'uomo tirandolo per i capelli, ormai non dava più segni quasi di funzioni vitali e soprattutto da parte di un frizzotto. La polizia di Stato noi abbiamo già una vocazione nel nostro DNA proprio di sociale, di soccorso al prossimo per cui sicuramente la sua esperienza lavorativa gli ha anche consentito di gestire un evento drammatico, critico, con prontezza di riflessi, con quella freddezza necessaria affinché potesse appunto recuperare il defibrillatore che poi è risultato determinante, ripeto, assieme anche all'intervento di altre persone che subito hanno soccorso il turista austriaco, quanto meno per evitare l'evento morte e quindi una riduzione del danno e quindi con l'augurio che si possa ristabilire quanto prima. Complimenti indubbiamente a Lanfranco Pigin, la persona che avete visto appunto nei nostri schermi, era fuori servizio, il fatto è successo domenica nel comune di Valvasone, Arzne. C'era appunto una festa in corso, avete sentito questa persona che si è accasciata all'istante, lui era nei paraggi e subito precipitato a prendere questo defibrillatore. L'importanza tra altre cose è sempre quella di seguire, di frequentare questi corsi di primo soccorso, BLSD sull'utilizzo del defibrillatore, anche perché veramente non si sa mai, mai ripeto, cosa possa riservare la vita, ti trovi magari a tu per tu con una persona che non sta bene, sei costretto a intervenire e non sai come intervenire, quindi ci sono veramente corsi che organizzano e che hanno organizzato in tutta la regione, informatevi e insomma se potete anche partecipate, perché veramente basta magari un paio di ore di corso, magari ripetuto anche nell'arco del tempo, per poter salvare la vita a una persona molto 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 importante. Morso da una vipara, un giovane alpinista triestino è per fortuna fuori pericolo di vita. Ha stato lo shock, l'intenso dolore, non si è perso d'animo e ha chiamato immediatamente il numero unico 112 ed è stato portato successivamente, dopo l'arrivo dei sanitari, al pronto soccorso di Trieste e Catinara. Poco dopo l'ora di pranzo, il ragazzo in condizioni stabili e non in pericolo di vita è stato trasferito nel reparto di rianimazione sottoposto alla Siero Profilassi, una terapia che necessita ricovero e rianimazione, non per la gravità delle condizioni di salute del paziente, ma per la necessità di un costante monitoraggio, date le possibili reazioni anafilattiche. Il ragazzo è stabile, fuori pericolo di vita. Allora adesso vi proponiamo una foto che ci è appena arrivato, ci è arrivata pochi minuti fa, allora vedete questa qua è una cabina dell'Enel, c'è praticamente un contattore, cos'è? È un formicaio con tanto di uova appena deposta. Allora la storia ce l'ha raccontata una ragazza che abita nella bassa pordenonese, questa mattina attorno alle 9-9 e mezza si alza, fa per accendere la luce, black out, non si accende i vicini di casa, non hanno nessun problema, chiama anche preoccupata, pensa che ci sia un guasto. Arrivano appunto i soccorsi, vedono, sperimentano, qua è tutto a posto e vanno alla fonte del problema, aprono la cabina dell'Enel e cosa trovano? Sua maestà il formicaio. Questa è una delle tante foto che ci ha inviata, voi inviate appunto, noi ve ne proponiamo una anche perché insomma a quest'ora magari può turbare anche l'appetito e vedete queste queste centinaia di formiche che hanno deposto già le uova e cosa avevano creato? Una sorta di cortocircuito. Sono arrivati poi appunto i tecnici, hanno ripristinato la corrente, quindi fate attenzione perché sempre più quando insomma meno te l'aspetti il formicaio o qualche altro appunto insetto o animale può metterci lo zampino. In questo caso vedete addirittura intaccato è una cabina dell'Enel che ha creato un cortocircuito in un'abitazione, quindi fate molta attenzione, soprattutto anche sigillate, questo può essere il consiglio eventuali pertugi o porte che possano essere accessibili a terze persone, si fa per dire anzi a animaletti così appunto prolifici. Allora 25, 26, 27 a Pordenone, sinergie in città. Noi abbiamo Patrizia Modolo, è una volontaria della protezione civile di Pordenone, ci spieghi l'evento e soprattutto come volontari che cosa farete? Sì, grazie per lo spazio che ci dedicate anche questa sera, praticamente nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio simuleremo un terremoto a Pordenone o meglio uno sciame sismico che appunto durerà un paio di giorni e che prevederà tutte le attività connesse a quella che è un'emergenza dovuto al terremoto, quindi l'evacuazione delle scuole, l'evacuazione della cittadinanza, l'evacuazione della casa di riposo Umberto I, abbiamo preso questa come test, porteremo fuori dal Museo Civico Richieri alcuni beni culturali che quindi saranno imballati come ci è stato insegnato durante i corsi fatti con il nucleo tutela patrimonio dei Carabinieri e con la soprintendenza di Udine e poi per concludere appunto dato il terremoto, paure e quant'altro si sono disperse alcune persone, quindi faremo anche una ricerca di persone disperse e scomparse nella zona di Vallennoncello, sia via terra sia via fiume. Patrizia, si parlava prima dell'utilizzo del defibrillatore, sicuramente la sicurezza va tutelata, quanto è importante sapersi muovere in caso di calamità? Assolutamente è importante sapere cosa fare e cosa anche non fare in caso di calamità, quindi sicuramente i cittadini del Comune di Pordenone hanno ricevuto più o meno un paio d'anni fa nel momento in cui è stato approvato il piano comunale dell'emergenza, hanno ricevuto a casa un pieghevole dove c'è scritto cosa fare e cosa non fare e quali sono le aree di attesa. Le aree di attesa sono divise diciamo più o meno, ce ne sono 3, 4, 5 per quartiere a seconda della densità della popolazione e sono quelle aree dove poi noi volontari o comunque le istituzioni vengono a dare le prime informazioni necessarie. Per quanto riguarda poi cosa in casa, stare sotto i muri portanti per quanto riguarda il terremoto, chiudere luce, gas e acqua per evitare appunto problemi. Cosa non fare? Non mettersi in strada con le auto, non intasare le linee telefoniche perché nei primi momenti dell'emergenza insomma c'è forse più utile che siano i soccorrittori ad usare le linee telefoniche. Si sa che c'è un sovraccarico. Assolutamente sì, assolutamente sì, infatti in questa esercitazione proprio simulando il sovraccarico delle linee telefoniche collaboreremo con l'ARI che è l'associazione dei radioamatori italiani che ci faranno da supporto per quanto riguarda le comunicazioni. Le altre associazioni che collaborano con noi, da cui il nome di Sinergia Pordenone, sarà Croce Rossa, il Sogit Soccorso Sanitario dei Giovanniti, i Cinofili, gli Alpini, i Carabinieri in Congedo, gli Ingegneri per le Emergenze che valuteranno la stabilità degli edifici e poi dal punto di vista istituzionale, oltre appunto all'apparato del Comune, quindi tutti gli uffici tecnici e la Polizia Locale, avremo anche il supporto dei Vigili del Fuoco. Senta, per concludere, che appello vuole lanciare ai nostri telespettatori? Ma allora, siccome per noi le esercitazioni sono fondamentali per testare quello che sappiamo fare, come riusciamo ad organizzarci, la massima partecipazione da parte dei cittadini sarebbe assolutamente gradita, quindi magari coloro che riceveranno la telefonata del Sindaco Alessandro Ciriani nella giornata di sabato, che dichiarerà lo stato di emergenza dovuto al terremoto e verranno invitati quindi a lasciare le case, se riescono a venire all'area di attesa di Piazzalello dei Mille, ci farebbero fare davvero il nostro lavoro. Patrizia Modolo, grazie come sempre, volontaria della Protezione Civile di Pordenone, partecipate veramente tanti a questo evento, perché sicuramente c'è sempre qualcosa da imparare, se non dire appunto molto da imparare. Grazie ancora per essere stata in nostra compagnia e a Trieste oggi c'è stata la prima riunione del Consiglio regionale, abbiamo intervistato e avvicinato il Presidente e il Neogovernatore Massimiliano Fedriga. Penso che il Consiglio abbia fatto un'ottima scelta e sono convinto che in questo modo il rapporto tra esecutivo e Consiglio saranno ottimi, anche nel discorso di insediamento del Presidente Romoli mi sembra che abbia voluto valorizzare quei temi che per quanto riguarda la Giunta regionale sono fondamentali, ovvero la valorizzazione dell'autonomia con la rinegoziazione con lo Stato centrale delle compartecipazioni, maggiori competenze per il Previdenza Giulia, la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini con la nuova riforma della sanità. Anche per noi sono punti fondamentali e nel rispetto dei ruoli e nella parità dei ruoli sono convinto che in questo modo Giunta e Consiglio lavoreranno al meglio insieme. Comunico i risultati della votazione. Votanti 48, astenuti 1, schede nulle 0, schede bianche 15, schede valide 48. Hanno ottenuto voti Romoli, numero 33. Allora abbiamo anche avvicinato alcuni protagonisti, alcuni ovviamente neoconsiglieri regionali, sentiamo quindi dai microfoni le loro prime dichiarazioni. Certo è una soddisfazione, Romoli è un esponente autorevole del nostro partito e non è stato solo eletto a primo turno ma è stato eletto anche con un'ampia maggioranza, ben oltre quelli che sono i voti della coalizione che sostiene la Giunta regionale. Quindi motivo di soddisfazione è anche per la stima che Ettore Romoli incontra anche da parte dell'opposizione. È un giorno importante, un giorno di un'ulteriore assunzione di grande responsabilità nei confronti del territorio, della circoscrizione che mi ha dato questi voti, che mi ha posto ai vertici della lista di Forza Italia. Ovviamente un po' di emozione c'è sempre e anche per chi come me qui c'è già stato più di una volta, credo che la cosa più importante però al di là della festa di oggi, perché l'insediamento è sempre una giornata un po' di festa, sia la progettazione e il lavoro che ci aspetta da subito, da domani. Io credo che ci debba essere un grande senso di responsabilità, che è quello che contraddistingue tutti i componenti della Giunta per questo cambiamento che abbiamo voluto grazie al voto degli elettori. In questi giorni io mi confronterò con gli uffici, ho già fatto una prima riunione con la dirigenza, incontrerò tutti i dipendenti dell'assessorato per capire quali sono le necessità impellenti e per fare i primi passi sulla nuova strada politica che abbiamo deciso di intraprendere. Credo sia il riconoscimento dei voti di tante triestine e di tante triestini, quindi ringrazio ancora una volta agli elettori che hanno fatto di me il consigliere eletto con il maggior numero di voti in Consiglio regionale. È un ruolo di garanzia, cercherò di fare il consigliere di opposizione, un'opposizione leale e chiara al Presidente Fedriga, ma al tempo stesso di svolgere il mio ruolo per garantire che i lavori dell'Aula siano più fructuosi possibile. Sicuramente è un'emozione, sicuramente un passaggio importante e adesso vediamo di lavorare bene, di lavorare per il bene della Regione e per la comunità dell'intero territorio. Non è scontato che l'elezione del Presidente del Consiglio regionale avvenga la prima votazione? No, assolutamente e questo è stato un risultato significativo e sicuramente un indice che la maggioranza è compatta e coesa e questo è un bel segnale anche per gli elettori che ci hanno dato la loro fiducia. Nuovi eletti, persone che anche hanno macinato e già, insomma, così accumulato un'esperienza come vedete, avete visto, Mara Piccin, come Barbara Zilli, proprio nei banchi del Consiglio regionale. Lui invece oggi ha fatto per la prima volta il suo ingresso, Mauro Capozzella, Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. Allora, tante belle proposte, tanto lavoro da fare, il lavoro del 5 Stelle, ma soprattutto che emozione ha provato oggi a essere diventato consigliere regionale del Movimento Pentastellato? Beh, indubbiamente l'emozione è forte e entrare nelle istituzioni, portare il proprio bagaglio culturale, i propri ideali, i propri valori. Fare in modo, questo è il mio obiettivo, il compito anche nel Movimento 5 Stelle, fare in modo che in quelle istituzioni tutti quanti gli eletti mettano al centro il cittadino e quindi si occupino del cittadino da quando sostanzialmente nasce a quando muore, perché è proprio per questo che veniamo tutti quanti votati, per occuparci dei nostri concittadini. Quindi la responsabilità è grande sulle spalle e vigileremo proprio con l'obiettivo di fare in modo che ogni giorno in quell'istituzione, che è la più importante della regione, i cittadini vengono messi al centro di ogni azione e quindi gli uomini d'affari sono avvertiti. Fa un po' specie, non vedere? Voi l'opposizione, la Lega è la maggioranza che governa e a Roma invece c'è quasi una trattativa in corso che sicuramente porterà a un nuovo governo. Devo dire la verità, è un cambiamento radicale del paradigma. Tutto sommato è necessario essere chiari soprattutto con chi ci ha eletto. Ciò che succede a Roma non si riverbera qui in Friuli Venezia Giulia. La Lega è dentro una coalizione di centrodestra con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle qui in Friuli Venezia Giulia è chiamato all'opposizione e quindi a quel ruolo di vigilanza che aspetta proprio a chi ha perso le elezioni. Senta Capozzella sicuramente abbiamo sentito tante cose da fare, tanti problemi anche da risolvere. Qual è la prima cosa che il 5 Stelle proporrà nelle prossime sedute di Consiglio regionale? Gli argomenti strategici rimangono quelli della campagna elettorale e di conseguenza quelli contenuti nel nostro programma. La sanità, il riordino della sanità, gli enti locali intermedi, quindi le uti e naturalmente il lavoro. Mi sembra che sia stato molto preciso. Le idee ci sono, ci sono molte, c'è tanta carne al fuoco. L'importante è Capozzella, mi raccomando, ha le promesse e poi devono seguire i fatti. La raccomandazione è che non faccio soltanto a lei, a tutti ovviamente. Sinistra, destra, centro e movimenti affini. Grazie ancora per essere stato con noi Mauro Capozzella, neoconsigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Friuli, Venezia Giulia. Ci vedremo con lui nei prossimi appuntamenti. E a Udine, la notizia che avevamo dato prima, si sono celebrate le nozze gay, le prime nozze gay della nuova era di centrodestra, celebrate dal sindaco leghista Pietro Fontanini. La prima unione civile gay a Udine, dopo la recente elezione del sindaco Pietro Fontanini alla guida di una giunta di centrodestra, è stata celebrata ieri nel municipio del capoluogo friulano. Due uomini, residenti fuori provincia, hanno scelto la città di Udine per ufficializzare la loro relazione senza riflettori e mantenendo la riservatezza. A celebrare l'unione civile è stata Elisabetta Marioni, consigliere comunale della Lega, dopo aver ricevuto la delega dal primo cittadino. Per il sindaco Fontanini c'è una norma e noi ne prendiamo atto, ha detto. Nonostante la nostra opinione diversa al riguardo, siamo rispettosi delle norme e non agiremo nell'illegalità. Il ruolo di celebrante, inoltre, ha proseguito, è stato affidato a una donna perché desideriamo che abbiano ruoli importanti. Emozionato come uno scolaretto il primo giorno di scuola, Cristian Vaccare, già sindaco del comune di Fiume Veneto, consigliere regionale per progetto FVG a sostegno di Fedriga. Questa volta abbiamo un consigliere di maggioranza. Allora, cosa si prova a essere entrati in un circuito così importante ma soprattutto sponsorizzare e sostenere un candidato ormai presidente come Fedriga? Diciamo che oggi siamo diventati operativi, è iniziata la dodicesima legislatura, abbiamo eletto il presidente del consiglio regionale, nella prossima seduta, ovviamente che si terrà a breve, fra pochi giorni ci sarà l'esposizione da parte del presidente della giunta regionale di quelle che sono le linee programmatiche. Credo che sia una grande soddisfazione, tra l'altro anche devo dire che il presidente Fedriga è un onore sostenerlo e lavorare a fianco a lui perché sarà un presidente che farà molto bene, una persona molto umile, che sta in mezzo alla gente, che sta con tutti e che vuole riprendere questo dialogo in primis anche con le amministrazioni locali. Per cui per noi sarà un piacere, tra l'altro la compagine dei consiglieri di maggioranza della provincia di Pordenone proviene praticamente tutta da esperienze amministrative negli enti locali con diversi ruoli, ma questo credo che sia un valore aggiunto, perché l'esperienza che ti può dare amministrare un comune sicuramente è significativa nel poter operare anche con degli obiettivi precisi e soprattutto che cerchino in qualche modo di raggiungere quelle che sono le reali necessità delle persone e anche ovviamente degli amministratori che hanno il compito poi ovviamente di amministrare i territori e che devono essere di nuovo messi in grado di operare. Le sfide sono tante, sono importanti, due fra tutte ovviamente il riordino degli enti locali e il tema della sanità e dell'integrazione sociosanitaria, sono aspetti che ci vedranno ovviamente impegnati non appena tutti gli organi saranno operativi, comprese anche le commissioni consigliari, perché su questi temi ovviamente la Giunta ha già cominciato ad operare e ovviamente di a ruota sicuramente anche il Consiglio regionale al quale spetta un lavoro significativo per cercare di rimettere in sesto, soprattutto su questi due temi, ma poi le partite ovviamente sono molte, quelli che sono gli aspetti programmatici e di rimenti in relazione appunto a una nuova operatività dei comuni e anche ad una sanità che si possa definire tale. Ecco, soprattutto nel nostro territorio, nella nostra zona pordenonese dove abbiamo delle eccellenze da salvaguardare, in primis ovviamente il Cro di Aviano, ma anche l'ospedale di Pordenone che a prescindere dalla nuova struttura, quello che è molto più importante sono i contenuti che saranno all'interno della struttura, perché è inutile negarlo, ma abbiamo perso in questi anni tante professionalità e non sarà facile risalire la china, ma ce la metteremo tutta. Senta, ma che sono scoppiato un po' di polemiche sulla nomina degli assessori, qualcuno dice beh, con questa nomina la ormai ex provincia di Pordenone rischia di scomparire, abbiamo solo un rappresentante effettivo Stefano Zanier, crede a questo rischio? Ma innanzitutto la provincia di Pordenone è rappresentata dagli assessori ma anche dai consiglieri, io credo che il miglior modo per tutelare un territorio siano ovviamente le linee programmatiche che interessano quel territorio, per quanto riguarda la nostra provincia le linee programmatiche sono ben chiare, dopodiché se dovessimo fare un paragone ovviamente rappresentanza territoriale uguale efficienza ed efficacia, prima avevamo degli illustri rappresentanti della provincia di Pordenone e credo che dopo una legislatura non usciamo sicuramente bene, vedi provincia, camera di commercio, ospedale, insomma tutta una serie di partite, per cui la rappresentatività territoriale vale quel che vale se non è accompagnata da un programma chiaro, forte ed efficiente, quello che c'è ed è quello che ci incoraggia e ovviamente deve tranquillizzare tutti. Il lavoro è tanto sicuramente ma ci metteremo subito a darsi da fare per la nostra gente. Impegno e passione prima di tutto. Assolutamente e umiltà che non deve mai mancare. Guai, sempre volare bassi, grazie come sempre a Christian Vacker, ci vediamo con lui la settimana prossima. Andiamo a Udine invece con l'ospite di Omar Costantini, abbiamo ancora il movimento pentastellato in pole position. Buongiorno a Calanda, Movimento 5 Stelle, è venuta a trovarci qui in studio a Udine. Allora, innanzitutto una domanda su questo benedetto contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle, come lo vede dal... è stata anche lei a decidere se è positivo o negativo innanzitutto? Sicuramente sì. Comunque le preciso una cosa prima del linciaggio mediatico. Io comunque non posso parlare a nome dei 5 Stelle ma posso parlare come ex consigliera di Udine del Movimento 5 Stelle, giusto? No, sicuramente non mi è stato chiesto nulla. Adesso vediamo come faranno. Ma a me ex 5 Stelle non mi piace. Diciamo così, Movimento 5 Stelle in aspettativa. Diciamo che lì può parlare solo chi è eletto. Poi anche lì ci sono, per dire, c'è anche Di Battista adesso che parla, però non è né eletto né niente. Però lei fa parte del Movimento a tutti gli effetti. Lui ha delega. Sì, beh, ancora sì. Comunque io adesso sono un po' in attesa anch'io da spettatrice delle faccende romane e vediamo anche la coerenza e quant'altro su quanto è stato promesso a suo tempo. Perché anch'io ho qualche dubbio sulle coperture finanziarie, sinceramente. Quindi vediamo. Il conte non conta o i conti non tornano? No, diciamo che, come posso dire, io ho chiesto più volte il programma dettagliato con le coperture sulla carta, anche, anche. Però io sono un po', diciamo, come Santo Maso e ritengo che comunque si debba valutare benissimo i conti nazionali e dopo anche ritarrare le cose se serve. Però devi stare molto attento a quanto fai le promesse e che dopo non sia un boom anche. Senta, torniamo un attimo anche a livello locale perché oggi c'è stata la seduta del Consiglio regionale. So che lei ha visionato, meglio del VAR, tutti gli interventi del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Allora cosa è emerso? Ma questa è una, diciamo, puntata formalmente burocratica, puramente burocratica, poi sarà interessante vedere il proseguio. Le stelle stanno a guardare? Ma non proprio, più che altro le stelle si stanno arrabbiando perché, come le accennavo anche l'altra volta, lei avrà letto le affermazioni, massima trasparenza, massima partecipazione soprattutto, così non è. Perché dopo la riunione di domenica 13, alla quale io pur essendo ancora allora portavoce non sono stata invitata, nemmeno a quella di domenica prossima, che pare si farà sacile la mattina, ma qualcuno dice anche che possono aver cambiato il luogo e l'ora. Quindi qualcuno soprattutto dice che anche nella lettera, premetto che la lettera l'hanno inviata Sabrina De Carlo e Luca Sud, deputati, Patuanelli, senatore e Marco Zullo, loro parlamentare. In questa lettera si dice che possono entrare uno per consiglio comunale, praticamente con un, diciamo, delegato di fiducia. Io in teoria non apprezzerei né una categoria né l'altra perché fiducia ormai io sono un pochino troppo critica. Una sfiduciata, una povera fiducia. No, ma non mi hanno sfiduciato tutti. Comunque il discorso è questo. Ma tramite online o i suoi vertici? No, no. Il gruppo, il gruppo di attivisti che poi molte volte sono attivisti tirati fuori per l'occasione. Comunque il problema è questo, che ritengo, e lo dico qui pubblicamente, e visto che sono anche i vertici nazionali del movimento regionale, di darsi una regolata. Perché non ritengo che una riunione fatta, praticamente blindata, con delegati di fiducia e quant'altro sia rappresentativa. Bisogna ascoltare tutti, farli parlare magari poco, ma ascoltare assolutamente tutti e soprattutto quello che si dice non deve rimanere lettera morta, ma deve essere fatta una sintesi e assolutamente dopo essere una proposta operativa, perché sennò non serve a niente. Insomma, morale della favola, la gallanda barcolla ma non molla, si piega, non si spezza, ma soprattutto rimane in aspettativa. Questa è la dicitura nuova che le daremo. Ringrazio l'ospite, la linea torna a Pordenone al direttore. Un cittadino ivoriano di 23 anni, senza fissa dimora, ma in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato ieri sera attorno alle 20.10 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nervosismo e irrequietezza mostrati da N.K, queste sono le sue iniziali, non sono passati inosservati agli occhi degli agenti di una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato, che in piazza 20 Settembre a Pordenone, all'altezza dell'hotel Minerva si erano appunto fermati ad identificarlo. Considerato che aveva carico dei precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale, all'interno degli slip nascondeva volti in un involucro di cellophane 32,58 grammi di marijuana, conserveva anche due telefoni cellulari e 50 euro in contanti. Portato in questura dove ha trascorso la notte, nella mattinata di oggi è stato condotto in carcere a Pordenone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Controllo antidroga in tutte le stazioni ferroviarie del Veneto da parte della Polfer, vediamo quindi i risultati nel servizio di Alessio Conforto. Operazione di controllo antidroga in tutte le stazioni ferroviarie del Veneto. Il bilancio di un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ad opera degli uomini della sezione Polizia Ferroviaria di Mestre. Una giovane è stata trovata in possesso di eroina e condannata ad un anno e quattro mesi. Cospicui i risultati dell'operazione che ha riguardato i 15 scali della regione con l'impiego di ben 87 operatori, 201 le persone identificate, un arrestato, 21 controlli di bagagli al seguito, 6 depositi bagagli controllati, una sanzione elevata. Da segnalare infine come nell'ambito delle operazioni gli uomini della Polizia Ferroviaria di Porto Gruaro abbiano sequestrato una modica quantità di ascis ad un cittadino straniero sanzionato amministrativamente. Abbiamo in studio Cristina Mirante, assessore al comune di Pordenone. Con lei parliamo di zone a traffico limitato. L'assessore è anzitutto ben ritrovata. Come si stanno i furbetti? C'è coloro che nonostante non siano in possesso dei regolari permessi comunque entrano nelle zone a traffico limitato della città? La buona parte delle città con caratteristiche simili alle nostre hanno adottato le telecamere di controllo sia per l'ingresso che per l'uscita dalla ZTL. È il metodo più efficace in modo tale da non impegnare comunque il comando di Polizia Municipale in un controllo che dovrebbe essere quotidiano e chiaramente non può esserlo per tutte le esigenze che ci sono nel resto del territorio e non solo nel centro storico. Oltretutto consentono comunque una certa flessibilità sia per, per esempio, le aperture durante i giorni di mercato che possono essere gestite molto bene, semplicemente con l'introduzione delle targhe degli operatori, ad esempio. E poi possono essere gestite insieme anche il sistema di Pilomat che stiamo studiando contemporaneamente alle telecamere. Questi due sistemi integrati consentono di avere un controllo puntuale, di poter garantire l'accesso ai varchi in determinati orari, per esempio ai mezzi di carico e scarico, e chiudere, rendendo addirittura del tutto pedonale, magari in determinati orari o per certe manifestazioni, i due assi principali, Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, e non soltanto un tratto di via Mazzini, Piazza della Motta, via della Motta, e tutte le operazioni di trasformazione in zone pedonali o comunque ZTL che abbiamo in progettazione, tra appunto via Mazzini, Piazza della Motta, per esempio, sono due esempi, ma molti altri che attraverso l'applicazione del piano di dettaglio del PUMS riusciremo a portare avanti. Questo vuol dire maggiori zone per l'utenza debole e minore zone per le macchine nel centro, e quindi un miglioramento anche della salute e della qualità ambientale. Assessore, quando potremo vedere queste migliorie? Allora, per quanto riguarda gli interventi, sono tutti in progettazione esecutiva e quindi di prossima bando di gara e quindi d'appalto, e quindi li vedremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019 come avvio dei lavori. Come conclusione dei cantieri, tutti i cantieri sono previsti in conclusione nel 2020. Quali altre opere che riguardano il suo assessorato, quindi le sue deleghe e le sue competenze, sono ormai in fase di avvio? Ce ne sono tante, perché quest'estate sarà un'estate calda per quanto riguarda i cantieri. Sotto tutti i fronti, crediamo. Sì, beh, se le previsioni continuano ad essere così, effettivamente è previsto un caldo infernale già questo weekend, se non sbaglio. Via Capuccini e la rotatoria di Via Montereale e Via del Traverso sono le prime opere a partire appena chiudono le scuole, quindi si semplifica un po' il traffico urbano. Sono cantieri che dureranno parecchi mesi e soprattutto quello di Via Capuccini che dura sei mesi, ma anche se la fase è più calda, sono i primi 90 giorni dove dobbiamo chiudere la strada quasi completamente al transito di tutti. Dopodiché ci sono tutta un'altra serie di opere. la rotatoria di Via Le Libertà, la pista ciclabile di Via Montereale, poi abbiamo le zone 30 a seguire, le asfaltature di Via Pravi a Bellasio, siamo in zona torre, andremo avanti con le asfaltature di Via Le Treviso, Via Nuova di Corva e poi ci sono tante altre operazioni come illuminazione pubblica per 130.000 euro, quindi sostituzione di pali e introduzione di nuove linee e molte altre cose dalla manutenzione straordinaria della segnaletica e altre cose che pian piano partiranno insieme al cantiere del Beato Dorico che è arrivato il progetto adesso in autorizzazione paesaggistica e speriamo di completarlo come è previsto per settembre. Bene, questa è la dimostrazione come Cristina Amirante, il suo entourage, il suo staff ovviamente stiano lavorando per la città. Non approfitto per ringraziarli, tutti gli uffici stanno lavorando tantissimo. Grazie, grazie ovviamente, insomma, grazie, anticipo già appunto la risposta a loro. Grazie ovviamente a Cristina Amirante, assessora del comune di Pordenone, grazie ovviamente per essere stata in nostra compagnia, ci vedremo la settimana prossima. Un uomo di 47 anni, residente a Udine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violazione di domicilio e porto d'arma bianca. Intorno a luna della scorsa notte, l'uomo aveva suonato il campanello di un appartamento di un condominio nella zona est di Udine, minacciando la padrona. Pretendeva di parlare con il figlio della donna, che in quel momento però non era in casa. Dopo aver indirizzato minacce di morte nei confronti di madre e figlio, era entrato nell'appartamento sfondando la porta. La polizia lo ha arrestato nel cortile del condominio, dove era sceso per attendere l'arrivo del rivale. In mano aveva un lungo coltello che è stato posto sotto sequestro, anche davanti ai poliziotti ha continuato a indirizzare minacce di morte nei confronti di madre e figlio. Non sono chiare le ragioni del contrasto tra i due uomini, le vittime non hanno inteso sporgere denuncia a querela. L'uomo è stato comunque arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Andiamo in Veneto con Alessio Conforti e Paolo Pizzolato. Grazie Alberto, con Paolo Pizzolato commentiamo le ultime anche relative alla politica, ma con un occhio al Veneto. Insomma, questo probabile premier professore, anche se ci sono delle evoluzioni che arrivano da Roma. Paolo Pizzolato, il Veneto chiede l'autonomia però. Innanzitutto buonasera a tutti. Veneto chiede l'autonomia, sinceramente in questo momento siamo molto perplessi per quello che sta accadendo a Roma, indipendentemente dal colore politico. Innanzitutto perché nessuno si aspettava sicuramente una aggregazione del genere, per cui fra Grillini e Lega uno fa parte di quello che è stata la vittoria del centro-destra, si è staccato e cerca l'unione con i Grillini. Logico che bene o male per far andare avanti questo paese bisogna credere in qualcuno e cercare di fare qualcosa. Però sinceramente lascia molto perplessi quello che sta accadendo. Poi relativamente al nome probabile di questo presidente, in tutta sincerità io resto molto scettico, sia come uomo politico, sia come dipendente bancario, perché effettivamente non è assolutamente non politico, perché non ha mai fatto parte della politica a parte in questo ultimo anno. E sicuramente un tecnico, perché essendo anche avvocato, per carità, non è che voglia dire che non è un avvocato, ma sicuramente penso non abbia assolutamente né esperienza di bilanci né esperienza di economia. Per cui logicamente in questo momento i mercati, che io vedo anche giorno per giorno, stanno rispondendo molto male. Il discorso della crescita dello spread è una cosa determinata e anche guidata un po' dall'Europa per fare un po' di male all'Italia e dare un significato molto profondo a quello che politicamente sta accadendo. Attenzione perché siamo nell'occhio del milino di fronte a tutti quanti e logicamente dobbiamo stare molto calmi e molto cauti con qualsiasi tipo di manovra a cui andiamo incontro. Le indiscrezioni dell'ultima ora dicono che ci sarebbe uno Luigi Di Maio verso la Premiership. Questo è quello che arriva da Roma. In questo caso, periodo ipotetico, sarebbe la figura giusta oppure si andrebbe un po' in contrasto perché il centrodestra vuole la Premiership, la Lega in primis? Io non farei mai una cosa del genere al loro posto. Innanzitutto perché verrebbe a cadere quella che è la fiducia delle persone che hanno voluto e che hanno votato queste due aggregazioni che ci sono in questo momento. Sinceramente avrei scelto ben volentieri una terza persona adeguata, però in tutta onestà forse dico una cosa che a qualcuno non potrebbe piacere, io non avrei trovato una figura nuova e, perdonate il termine, un po' inesperta. Io mi sarei appoggiato anche su una figura che tecnicamente potesse essere anche vecchia ma con un ruolo ben preciso determinato da anni e anni di esperienza. Sicuramente il nuovo che avanza è quello che verrà ed è il futuro, però sinceramente siamo anche un paese di 60 milioni di abitanti e non è di certo uno scherzo amministrare in questo momento il paese con un debito pubblico che è fra i più grandi di tutti, ricordiamoci che siamo la ruota di scorta dell'Europa e che stiamo cadendo come la Grecia in una difficoltà enorme che già si vede all'interno delle banche e all'interno dell'economia italiana. Grazie Paolo Pizzolatto, linea che può tornare a Pordenone. Aggressioni al personale sanitario, 45 casi solo nel 2017. L'azienda sanitaria del Veneto orientale passa al contrattacco, consegnati questa mattina 200 fischietti per fronteggiare il fenomeno. Si va dalle aggressioni verbali alle spinte, dagli schiaffi ai pugni e ad avere la peggio è sempre il personale medico e sanitario. 23 i casi registrati nel 2016 aumentati a 45 nel 2017. Un trend che si rispecchia purtroppo anche in ambito nazionale, quello registrato dall'Ulse 4 del Veneto orientale che oggi ha presentato un progetto sperimentale volto a gestire proprio gli episodi di violenza e a proteggere i propri professionisti esposti a questo rischio. La novità consiste nella fornitura di 200 fischietti per un periodo sperimentale di 6 mesi al personale dei pronto soccorso di Sandonà, Portogruaro e Jesolo, della psichiatria, del servizio per le dipendenze, del centro di salute mentale, del consultorio familiare di Sandona di Piave e di Portogruaro. Oltre al fischietto il personale riceverà anche le relative istruzioni sulle modalità di impiego che saranno differenti in relazione al contesto di utilizzo. L'azienda sanitaria è il datore di lavoro, ha detto il direttore generale dell'Ulse 4, Carlo Bramezza è come tale deve essere responsabile della sicurezza del proprio personale. Il fischietto verrà utilizzato dall'operatore in caso di pericolo per richiamare l'attenzione dei colleghi o di altre persone che possono così accorrere in aiuto. In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un laccetto personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendere più facile l'utilizzo da parte dell'operatore. Già nel 2016 l'Ulse 4 si è attivata sul fronte della sicurezza del personale recependo la raccomandazione con cui il Ministero della Salute forniva indicazioni per prevenire e gestire simili episodi. Dalla sanità allo sport ci trasferiamo a San Vito al Tagliamento. Lui è Carlo Candido, assessore proprio alla cittadina di San Vito. Allora ci parliamo di un bando da 30 mila euro sostegno proprio dello sport giovanile a San Vito. Cosa ci vuol dire? Buonasera direttore e ringrazio anche che mi date la possibilità di venire dai vostri studi per far conoscere questa iniziativa. Noi partiamo da una considerazione molto semplice. Fare sport è importante, lo è dal punto di vista della salute, quindi l'aspetto fisico, ma lo è pensando in modo particolare ai ragazzi anche per la formazione del carattere e tutti i benefici anche dal punto di vista sociale che una pratica sportiva comporta. Se è importante è chiaro che un'amministrazione pubblica deve far sì che più persone possibili, in special modo i ragazzi, ripeto, possano praticare un'attività sportiva. Noi per il secondo anno abbiamo inteso fare un bando comunale, sinceramente sfido di riuscire a trovare altri comuni che finanziano con le stesse cifre un bando ad hoc per promuovere l'attività sportiva tra i giovani. Abbiamo fatto questo bando di 30.000 euro, quindi anche il fatto che lo ripetiamo per il secondo anno dimostra che la nostra vuole essere un'attenzione, un aiuto di tipo strutturale, non come qualcuno aveva sospettato lo scorso anno un intervento un po' a spot, visto che lo scorso anno era stata la prima volta. 30.000 euro rispetto allo scorso anno abbiamo differenziato però i canali di contributo. Lo scorso anno avevamo dato 30.000 euro, ripeto, tramite bando, quindi togliendo anche un po' alla giunta e ai politici un certo potere discrezionale, che invece talvolta c'è quando vengono assegnati i contributi. L'anno scorso 30.000 euro alle associazioni sportive per l'attività fatta con i ragazzi fino ai 16 anni, perché questa è la fascia di età che noi abbiamo inteso favorire e promuovere. Quest'anno sempre 30.000 euro, però dicevo due canali. 20.000 verranno dati con contributi alle associazioni sportive, sempre per l'attività, prendendo quindi come parametri l'attività che viene svolta con i ragazzi fino a 16 anni, mentre 10.000 euro verranno assegnati sempre attraverso un bando, quindi con criteri precisi, direttamente alle famiglie. Quindi ci sarà un limite, un limite ISEE di 15.000 euro, perché chiaramente gli aiuti li diamo a chi ha bisogno di riceverli, non li possiamo dare naturalmente a pioggia a chiunque. Le famiglie verranno date a chi avrà diritto, verranno questi 10.000 euro, verranno ripartiti tra tutti gli eventi diritti, abbiamo fissato un limite di 100 euro a figlio e quindi la famiglia potrà recarsi in una qualsiasi associazione sportiva di San Vito, presentare questo, chiamiamolo bonus sport, questo voucher che verrà rilasciato dall'ufficio sport e ottenere la cifra corrispondente a questo bonus, uno sconto rispetto alla retta che viene richiesta dalle società sportive. Poi le società verranno rimbersate direttamente dall'amministrazione comunale. Riteniamo di aver fatto in questo modo un sostegno reale all'attività sportiva giovanile, come giusto cosia, che si somma ad altri interventi che noi facciamo, come la revisione di una tariffa fortemente agigolata proprio per l'attività sportiva giovanile fino ai 16 anni e anche per la fruizione degli impianti sportivi del Comune di San Vito. Il termine è il 31 maggio, quindi invito tutti quanti ad affrettarsi, noi l'abbiamo comunicato attraverso lo scuolo, quindi pensiamo di aver già raggiunto un po' tutti. Comunque il 31 maggio scaricatevi il bando dal sito del Comune e andate all'ufficio Sport a presentare questa possibilità in più per i nostri ragazzi. Assessore, 30 secondi ancora, siamo riduci da questa brillante iniziativa che avete fatto, quindi il Giro d'Italia, la partenza per la tappa che poi è terminata sullo Zoncolani. Qual è il polso della situazione per quanto riguarda l'attività sportiva giovanile a San Vito? Beh, io credo che insomma abbiamo 60 società sportive che si occupano di 30 discipline sportive, quindi anche una mole importante. I numeri dei ragazzi che praticano attività sportiva a San Vito è altissimo, adesso io il numero esatto non me lo ricordo, ma siamo di diverse centinaia di ragazzi che lo praticano. Se è importante fare sport, un'amministrazione pubblica deve mettere in campo tutti gli strumenti possibili per far sì che più ragazzi possibili possano accedere alla pratica sportiva. Tra l'altro noi abbiamo anche dei progetti di inclusione sociale e interveniamo laddove ci sono ostacoli di natura economica che impediscono ai ragazzi di praticare un'attività sportiva. Noi possiamo intervenire in modo anche molto agevole con questo progetto che si chiama Fai crescere un campione. Lo scorso, non negli ultimi 12 mesi, un po' di più, siamo riusciti a intervenire con finanziamenti quasi di 10.000 euro con questi progetti. Di questi tempi insomma. Cerchiamo di favorire, la nostra parte la facciamo penso in modo egregio e penso anche che ci venga riconosciuto dalle società sportive. Ci vediamo presto anche con Carlo Candido, assessore al comune di San Vito al Tagliamento. Parliamo di sostanze FAS in Veneto, potenziati filtri della centrale idrica di Lonigo. La centrale di produzione idrica di Madonna di Lonigo nel Vicentino, gestita dalla società Acque Veronesi, ha potenziato il processo di trattamento dell'acqua potabile con ulteriori 10 filtri a carbone attivo che vanno ad aggiungersi ai 5 filtri rapidi a sabbia e ai 10 filtri già attivi per l'abbattimento dei composti FAS, le note sostanze per fluoro alchiliche. L'operazione da poco completata è stata presentata nel corso di un sopraluogo da parte dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, accompagnato dal direttore generale di ARPAV e dai vertici dei tecnici di Acque Veronesi. Il costo dell'intervento di potenziamento, i cui lavori ora conclusi erano stati appaltati a novembre, ammonta ad 1.800.000 euro, di cui 930.000 di finanziamento regionale. Come regione, ha spiegato l'assessore Giampaolo Bottacin, ci eravamo attivati fin dall'inizio di questa emergenza e quando l'Istituto Superiore della Sanità ci ha detto di decidere noi, i limiti per i FAS, abbiamo indicato il valore zero per la zona rossa. Sono state ulteriormente potenziate le azioni di filtraggio che sono ora le più avanzate a livello europeo, fa sapere la regione in una nota. Convocheremo gli enti gestori del servizio idrico del Veneto chiedendo che la stessa metodologia sia applicata in tutti gli acquedotti per evitare che si possano verificare situazioni analoghe. La centrale di Madonna di Lonigo provvede all'approvvigionamento idrico di comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova. Mentre la crisi interessa tante aziende, anche nel nostro territorio, noi invece come gruppo Mediatrivento e soprattutto la nostra ammiraglia Telepordenone cerca un impiegato, un'impiegata amministrativa contabile per lavoro ovviamente per impiego a partire da subito. 0434 55 24 44 il numero da contattare. Quindi ricerchiamo un impiegato o un'impiegata amministrativo o amministrativa contabile per il gruppo Mediatrivento. Vedete appunto tutti i network e i canali abbinati a questo grande gruppo, a questa grandissima famiglia. 0434 55 24 44 il numero da contattare per ovviamente candidature e soprattutto per informazioni. Rimaniamo a San Vito al tagliamento, lo facciamo con Alberto Bernava, lui è consigliere comunale per quanto riguarda i cittadini, tra altre cose cittadini che sono riusciti ad esprimere con Tiziano Centis anche un candidato regionale. C'è stata appunto la prima volta anche per lui oggi a Trieste. A livello comunale avete presentato invece un'interpellanza che riguarda la viabilità, un tema molto sentito. cosa riguarda? Beh diciamo che la viabilità è uno dei temi più sentiti soprattutto in un comune complesso come quello di San Vito. Noi diverse volte come cittadini per San Vito o comunque tutta la coalizione composta da noi e da Altrantiva Comune ci siamo occupati in modo particolare di viabilità e sicurezza. Sicurezza ovviamente in termini anche molto più ampi ma sulla viabilità abbiamo già detto molto e vogliamo continuare a vigilare sullo corretto operato di questa amministrazione comunale all'assegno di tagliamento perché ci sono delle criticità. Innanzitutto esprimo soddisfazione che siamo tra i primi, se non i primi ma sicuramente rappresentiamo i primi interlocutori dei San Vitesi per quanto riguarda le criticità quindi costantemente veniamo sollecitati. È anche semplice lavorare così perché ovviamente abbiamo costantemente del materiale che possiamo portare poi in atti concreti di proposta, di controllo, comunque di sollecitazione dell'amministrazione comunale. Di questi uno in particolare riguarda un'arteria di San Vito tagliamento particolarmente frequentata che è via Totti. Per chi non lo sapesse è quella raccordo, quella piccola arteria che collega Ligugnana a Rosa dopo via Pasubio esce alla rotonda di Rosa nella rotonda con via Udine. Sì, sì, chiaramente. È molto utilizzata perché i lavoratori della zona industriale Ponte Rosso magari per superare, per bypassare il traffico e la congestione di traffico che esiste ancora purtroppo aspettando la circonvallazione in via Madona di Rosa e in via Udine passano, bypassano quella zona per arrivare prima e utilizzano un'arteria diciamo che non è adeguata a quei flussi di traffico e corrono molto. Da tempo va detto, quindi non è una critica in toto a questa amministrazione perché il problema esiste da tempo ed è stato segnalato anche con una raccolta firme da dei residenti, esistono questi problemi e nelle precedenti amministrazioni sono stati fatti degli interventi, dei dossi via Pasubio e poi c'è stata una intensificazione almeno nel primo periodo di controllo della polizia locale purtroppo per il sottodimensionamento che noi subiamo in questo periodo questa scelta diventa un po' difficile. Noi porteremo quindi a fronte di queste sollecitazioni dei residenti, ultime in particolar modo, un'interpellanza all'amministrazione comunale per il consiglio comunale del 31 maggio dove chiediamo cosa si intende fare soprattutto rispetto prima in un contesto nel quale esistono delle risorse, esistono dei denari perché ormai sono due anni che il comune di San Vito e Tegliamento realizza importanti avanzi quindi finalmente ci sono delle risorse. Questa amministrazione, lo dico con una battuta, è fortunata da questo punto di vista e noi intendiamo sollecitare appunto l'esecutivo affinché parte di queste risorse vengano utilizzate, non pensiamo, ovviamente non abbiamo voluto che siano enormi risorse quindi sono degli accorgimenti affinché si possa alleviare questo problema e controllare le forti velocità che attualmente purtroppo vedono via Totti come una delle vie più pericolose. Idee, dossi a regola, a regola d'arte che rispettano ovviamente il codice della strada che sono particolarmente, anzi sono maggiormente onerosi rispetto a dei dossi che non sono stati realizzati tempo fa, nel qual caso ci trovassimo, io mi auguro breve, con un organico di pulizia locale sufficiente che vengano ovviamente messi i controlli tra virgolette umani e poi perché no ci sono tutta una serie di elementi di scelte che la tecnologia più evoluta ci può dare per installare degli autovelox o comunque degli strumenti della strumentazione che permetta di controllare anche che funga da deterrente per chi ovviamente purtroppo eccede quei limiti di velocità che ricordo essendo strada di paese sono di pari a 50 all'ora, quindi particolarmente contenuta. Bene, stiamo a vedere anche il sindaco di Bisceglie cosa risponde. Attenderemo, vedremo volentieri. Grazie a tutti i pazienti la risposta, grazie come sempre ad Alberto Bernava, consigliere comunale per i cittadini a San Vito del Tagliamento, cedo subito la linea in Veneto dove vedo già uno scalpitante Alessio Conforto in compagnia dell'amico Matteo Bortolussi, allora chiudiamo con te Alessio questa prima parte, ti ricordo poi la borsa, il break e tutte le altre notizie da Udine e dal Veneto, la programmazione però continua con tutti i nostri programmi, tutti i nostri appuntamenti della serata con la parte generale, ci rivediamo domani. Esatto Alberto, grazie ovviamente della linea. Matteo Bortolussi, parliamo di questo gelato al cetriolo, questa novità che arriva dal Veneto orientale ma anche un po' dal Pordenonese, insomma da un certo punto di vista non sappiamo se in altre parti d'Italia esista già, però per quanto riguarda il territorio si può dire che è una novità, da dove nasce insomma questa idea? L'idea diciamo nasce appunto da questa manifestazione che si svolgerà il 3 giugno al Molini di Stali, se appunto una collaborazione tra i comuni di Sesto Regghera, Cordovado e Gruaro e appunto mettendo insieme un po' la produzione ortofrutticola locale, più nello specifico quella che facciamo nella mia azienda agricola appunto di produzione di cetriolo, abbiamo detto perché non facciamo un prodotto caratteristico e che si possa presentare come novità, magari qualcuno l'ha già fatto ma sicuramente non col cetriolo o prodotto a Gruaro. Ma senta una cosa, ma può essere anche una novità da un punto di vista anche culinario, per esempio io sarei un tradizionalista del gelato, però insomma nel veneziano, nella parte magari più a ridosso del capologo launare hanno già fatto il gelato allo spritz per esempio, queste sono insomma anche le tendenze di qualche anno fa, si punta sempre anche da quel punto di vista a valorizzare i prodotti, può funzionare anche per esempio magari con un buon vino, insomma, cosa c'è dietro? Sicuramente l'amico Bortolussimone che è poi il gelataio che lo realizzerà ha avuto una bella idea di abbinarlo a un biscotto, quindi a un prodotto secco diciamo e a un vino. È sicuramente un gelato che si presta molto alla ristorazione, un po' meno forse alle gelaterie tradizionali perché è un gusto un po' particolare, ma sicuramente in un mondo in cui i vegani e i vegetariani stanno crescendo ogni anno in maniera esponenziale, può essere una novità. Il gelato al cetriolo può essere una partenza per altri gelati, appunto per questa nicchia, per queste persone che vogliono dei prodotti diversi con i prodotti ortofrutticoli di territorio. Un colore del gelato? Verde ovviamente. Non molto verde perché comunque si utilizza all'interno quindi è più chiaro, ma abbinare appunto il ristorante, la ristorazione con le aziende agricole è il futuro, l'abbiamo visto col prosecco, per lanciare il prosecco la ristorazione ha dato una grossa mano. Bene, magari avremo modo di sentire anche chi lo realizza fattivamente, sta creando un po' di curiosità. Domani farà la prima prova. Bene, grazie a Matteo Bortolussi. Ci chiediamo dunque questa prima parte, linea alla regia, al break la borsa e poi ancora con l'informazione, prima c'è Udine e poi si ritornano di nuovo qui in Veneto. Non cambiate canale, restate con noi. Dopo le forti tensioni sull'obbligazionario della vigilia, oggi lo spread BTP Bund è tornato sotto quota a 180 punti base, favorendo la ripresa parziale di piazza affari e del settore bancario. L'indice Fustemib e lo share hanno chiuso in rialzo dello 0,54%. Rimangono in primo piano le questioni politiche italiane con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che tenderà fino a domani prima di decidere se conferire a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo con appoggio di Movimento 5 Stelle e Lega. L'alleviarsi delle pressioni sui BTP ha fatto bene alle banche con un più 2,43% per Unicredit, 1,61% per Viper e più 0,68% per Intesa. Unica nota stornata è Banco BPM che è calata dell'1,67%. Tra le big del listino milanese, nuovo scatto di FCA con l'avvicinarsi dell'appuntamento con il nuovo piano industriale, bene anche Telecom Italia. Ben ritornati dunque gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, continuo all'informazione su TPN, leggiamo alcune notizie prima di parlare con l'ospite. Apriamo con Trieste per dire che non potrà avvicinarsi alla moglie di 19 anni a causa delle continue violenze di cui è stato macchiato né al nuovo compagno della stessa donna, nemmeno tramite altre persone. Il protagonista dell'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia è un 25enne richiedente asilo di origini irachene denunciato dalla procura di Trieste. È proprio al periodo trascorso in Belgio che risalgono i primi episodi di violenza contro la, all'epoca, sua consorte. Le indagini hanno ricostruito una lunga serie di violenze e vessazioni risalenti al 2016. Restiamo sempre nel capoluogo per dire che un 35enne cittadino albanese, egide sui iniziali, è stato arrestato l'altro ieri nei pressi di Fernetti dagli agenti della polizia di frontiera di Trieste. L'uomo dovrà scontare un anno, 7 mesi e 24 giorni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Dal giugno 2015 era destinatario di un ordine di incarcerazione emesso dalla procura del capo, anzi emesso dalla procura presso il tribunale di Vasto. Venerdì 25 maggio alle 18 invece a Cividale, nello storico palazzo De Nordis in piazza Duomo, si svolgerà il secondo appuntamento della serie di conferenze di battito, l'arte di mangiare bene e sano, chef, medici e scrittori in cucina, organizzata dalla Biblioteca Civica, assessorato alla cultura del comune di Cividale, in collaborazione collersa e con l'associazione culturale Apriamo il Paracadute. Dopo successo della prima serata dedicata alla chef stellata Antonia Klugman, grande attesa per la dottoressa Maria Rosa di Fazio, responsabile del servizio di oncologia integrata del centro medico internazionale SH Service della Repubblica di San Marino. Non è una ma due fatture ricevute a breve distanza l'una dall'altra, praticamente identiche, salvo Liban. È l'ennesimo caso di truffa online fortunatamente fallito. Lo ha denunciato la Polizia Postale, un associato di Confartigenato Imprese Udine. Si è visto clonare una fattura inviata a un cliente con il rischio che quest'ultimo effettuasse il bonifico non a favore dell'impresa ma del truffatore, ora nel mirino degli ispettori di polizia. Fortunatamente il tentativo di truffa è andato male. Prima di effettuare il bonifico il cliente ha infatti contattato telefonicamente l'impresa che si è immediatamente attivata per denunciare il caso alla Pol Posta. L'associazione mette in guardia, anzi per la precisione Confartigenato, mette in guardia le imprese e in generale i consumatori affinché prestino la massima attenzione a tutto quanto ricevuto via email. Unire le forze per affrontare i problemi del territorio. E questa è l'idea dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Mossa Elisabetta Feresin che si sono incontrati nel municipio a Gorizia. Sul tavolo diverse questioni, dagli aggiustamenti della 56bis alla carenza di personale in alcuni settori. Non ultima la necessità di elaborare una strategia comune in ambito industriale. Per quanto riguarda la famosa 56bis, la Feresin ha proposto a Ziberna alcuni interventi migliorativi, tra i quali la limitazione della velocità su alcuni tratti di strada e il perfezionamento di alcune rotonde. Si è quindi parlato di una collaborazione per la gestione di alcuni servizi comunali all'interno dell'UTI ma anche delle strategie di sviluppo che hanno concordato i due sindaci non possono più essere elaborate all'interno del perimetro dei singoli comuni ma hanno bisogno di respiro più ampio che tenga conto delle infrastrutture presenti sul territorio e della loro messa in rete. Andiamo a chiudere con l'ospite, c'è raggiunto in studio l'Avvocato Viezi. Allora Avvocato, Presidente tra l'altro difender caccia e parliamo proprio di caccia perché ci sono importanti novità, no? In che senso? Fa riferimento alle comunicazioni di attenzione che siamo... Certo. Sì, abbiamo iniziato un'attività informativa a favore di tutta la collettività sul comportamento da tenere quando si trovano animali selvatici appena nati e questo è il periodo, il periodo di aprile e maggio, le capriole partoriscono e spesso capita di incontrare i piccoli e di pensare che questi siano abbandonati. In realtà le madri non abbandonano i figli salvo che non vi siano delle ragioni che noi non comprendiamo ma in quel caso non possiamo neanche evitare il corso naturale delle cose. Però nell'ipotesi in cui si incontrino questi animali che vengono lasciati dalla madre momentaneamente è assolutamente prioritario non toccarli perché fisiologicamente non hanno odore nei giorni successivi al parto e il lasciare un odore umano comporta inevitabilmente l'abbandono del piccolo da parte della madre. Questo avviene per quasi tutti gli animali selvatici, quindi la nostra curiosità in realtà o anche il nostro comportamento benevolente perché alle volte appunto pensando che l'animale sia stato abbandonato cerchiamo di salvarlo ma in realtà questi comportamenti sono dei comportamenti controproducenti e contro natura e sono assolutamente negativi, sono quelli che determinano poi l'abbandono effettivo da parte delle madri e dei cuccioli. Bisogna sempre fare informazione utile Presidente Viezi perché molto spesso la gente non conosce esattamente le varie caratteristiche che madre natura offre ai suoi adepti. Bisogna far conoscere a tutti, in particolare quando si va nei boschi o comunque all'interno di una riserva di caccia ci sono delle regole da rispettare. Assolutamente, devo dire che l'opinione pubblica, la comunità sempre più spesso non conosce quelle che sono le regole naturali. Ormai abbiamo gli strumenti di informazione che ci proiettano all'interno di uno schermo ma ci fanno perdere la vista rispetto alla terra rispetto alle regole naturali. Questo tipo di educazione rischia anche sovente di mancare all'interno degli istituti scolastici primari e inevitabilmente poi questa non conoscenza genera problemi anche nell'età più adulta. Quindi sarebbe opportuno riprendere anche quei percorsi informativi presso le scuole elementari che noi, mondo venatorio, cerchiamo di fare con non qualche difficoltà spesso ad entrarvi per una sorta di pregiudizio ma che una volta che si riesce ad avviare determina una conoscenza e anche uno stupore sulle informazioni che vengono ricevute dai ragazzi che li rende sicuramente più consapevoli nel rapporto naturale. Facciamo un attimo già che ci siamo perché ricordiamo che la storia del Bambi è sui libri, non è nella realtà in un certo senso. Noi tendiamo ad umanizzare gli animali ma nel momento in cui li trasformiamo in una cosa che non sono, cioè in esseri umani, già con questo tipo di approccio e comportamento li snaturiamo e creiamo un danno sotto il profilo ambientale. Senta, già che ci siamo approfittiamo della sua presenza per parlare di questa situazione legata anche agli altri animali selvatici che ultimamente sono al centro della cronaca, vedi gli stessi cervi, i vari animali che entrano all'interno della cronaca perché devastano e via dicendo. La Federcarcia come si sta muovendo? Allora ci sono una serie di animali che sono sfuggiti al controllo, quando intendo controllo sono sfuggiti alla pianificazione faunistica che ogni regione è obbligata a fare e che a livello nazionale si dovrebbe fare, che passa anche attraverso il contenimento di alcune specie. Lei ha citato per esempio i cervi, ma non solo questi, i cinghiali che hanno una proliferazione praticamente incontrollata con conseguenze sotto profilo economico per incidenti stradali, danni alle culture agricole e ormai hanno raggiunto numeri che non sono più compatibili con la loro coesistenza con altre specie, con l'essere umano, con le attività antropiche, non sono più neanche compatibili con le capacità cosiddette portanti del territorio. Abbiamo da tempo sollecitato l'amministrazione regionale ad avviare quelle attività necessarie a contenerne il numero, ma anche di specie che non sono di interesse per il mondo venatorio, faccio l'esempio della nutria che ha portato a carico della collettività danni per milioni di euro. Noi paghiamo per un animale che all'octono è stato importato e che ha creato una serie innumerevole di danni soprattutto sugli argini. Si fa un'estrema difficoltà a ottenere le autorizzazioni anche per compiere quelle attività minimali di contenimento. Spesso la stessa amministrazione regionale preferisce affidare il compito del prelievo di quegli stessi animali con gli stessi metodi che potrebbero utilizzare i cacciatori al corpo forestale regionale, impiegandolo però anche in orario di straordinario che noi contribuenti continuiamo a pagare e sottraendolo alle altre attività, ritengo io più significative, più meritorie come quelle per esempio della lotta al contrabbando dei rifiuti, a violazioni edilizie, a discariche abusive e via dicendo, comunque i reati ambientali più importanti e impieghiamo il corpo forestale a fare ciò che i cacciatori chiedono di fare gratuitamente. Diventa un costo per la collettività e paradossalmente non lo possiamo esercitare noi che abbiamo il numero adeguato delle persone. Sono tra quelle tante contraddizioni che questo mondo deve sopportare in questo momento alle volte o se non spesso condizionate dalle biologie che non sono più le biologie politiche, sono delle biologie che assomigliano un po' alle religioni estremiste. Io ringrazio Paolo Viezzi per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, non resta che dirvi il break pubblicitario e poi come sempre le ultimissime dal Benetton. Ben trovati anche dalla nostra redazione del Veneto. In apertura la cronaca perché sono salite a quattro le vittime del doppio incidente avvenuto oggi sulla A31 Valdastico Sud, nei pressi di Albettone, nel Vicentino. Ebbene, è deceduto infatti dopo il ricovero in ospedale anche l'occupante di una delle due autovetture coinvolte nel primo schianto che purtroppo si era verificato antecedentemente a quello successivo dove avevano preso fuoco come vediamo dalle immagini, grazie regia, due autovetture. Nel tamponamento dovuto forse anche alla coda dell'incidente erano poi decedute carbonizzate altre tre persone. L'isola di Poveglia invece nella laguna di Venezia, cambiamo completamente argomento, assieme anche alle strutture e ai giardini saranno messe in sicurezza entro la fine del mese di luglio. L'Agenzia del Demanio ha infatti avviato la procedura per individuare l'impresa che eseguirà i lavori per prevenire eventuali infortuni e poter destinare il complesso monumentale ad uso pubblico ripristinando una porzione dell'isola che potrà essere messa a disposizione per singole manifestazioni ed appuntamenti a carattere sociale. In autunno invece l'Agenzia pubblicherà il bando per affidare l'isola in concessione ed avviarne un percorso di recupero unitario e funzionale con cui garantire al contempo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dello Stato. Sono stati attimi di trambusto nel pomeriggio di oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia per un incidente avvenuto in pista tra un pushback, uno di cui mezzi che aiutano le manovre delle aerei a terra ed un finger, struttura che invece permette ai passeggeri di salire a bordo, da stabilire ancora l'esatta dinamica dell'impatto, fatto sta che il piccolo veicolo è andato a schiantarsi con una certa forza contro appunto il secondo mezzo, tanto che i vetri sono andati in frantumi. Oltre al conducente del pushback sarebbe rimasto ferito anche uno dei passeggeri che stavano percorrendo in quel momento il finger per entrare in aereo. 250 mila euro per i centri di raccolta rifiuti in Veneto, una delle ultime novità che arrivano direttamente dalla Regione. Sentiamo. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore all'ambiente, ha approvato un bando in materia di rifiuti dedicato ai comuni della Regione. Con questa iniziativa si stanziano 250 mila euro a sostegno di interventi di adeguamento di centri comunali di raccolta e implementazione delle dotazioni strumentali all'ottimale attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. A darne notizia e la Regione stessa attraverso una nota stampa. Il contributo regionale sarà nella misura del 50% e non potrà superare l'importo di 80 mila euro per iniziativa e per struttura richiedente. Gli interventi dovranno prevedere una spesa minima di 20 mila euro. Si tratta di un piccolo ma importante segnale di attenzione, conclude l'assessore regionale, con cui si manifesta la nostra avvicinanza ai comuni, soprattutto in una fase delicata e di scarse risorse come quella che gli enti locali vivono in questo momento. In tutte le scuole di ordine e grado del Veneto si studierà la storia dell'emigrazione Veneta. Lo prevede il protocollo d'intesa tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale e le sette associazioni venete per l'emigrazione. A partire dal prossimo anno scolastico ad insegnanti e studenti saranno proposti interventi di approfondimento, incontri con i testimoni e lezioni di storia per comprendere il fenomeno migratorio che ha interessato il Veneto a partire degli ultimi tre decenni dell'Ottocento fino al secondo dopoguerra. Ed è il Piave, fiume sacro alla patria, il protagonista di un lungo percorso ciclabile che si snoda per 220 chilometri partendo dalle sorgenti nel Belunese, siamo nel Monte Peralba, e giungendo fino al mare Adriatico a Cortellazzo a Jesolo dopo aver attraversato il Trevigiano. L'itinerario percorribile risalendo o discendendo il percorso fluviale a piedi o in bicicletta può essere fatto seguendo vari temi, castelli, torri e abazie, i musei, il Piave e la Grande Guerra, gli opifici storici, le chiese affrescate, i grandi capolavori del Piave, le ville e i paesaggi del Piave. Il turista può optare se comprenderli tutti o in parte in un intreccio che può far protrare la vacanza per oltre due settimane. Apriamo ora di nuovo la pagina della cronaca, le pratiche al massaggio cardiaco e aiuta gli operatori sanitari a salvarla facendole riprendere il battito. La cameriera di sala di un hotel a Lignano Pineda, una 46enne di Udine, vittima di arresto cardiaco nel pomeriggio di lunedì, avviva anche grazie all'intervento diretto del titolare dell'albergo lignanese Paolo Stefanuto di Porto Gruaro. Il fatto appunto è avvenuto nella struttura ricettiva udinese. Stefanuto che con la famiglia da decenni gestisce anche strutture ricettive a caol, è stato provvidenziale, la donna resta in gravi condizioni ma vive da ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Deceduto invece in Thailandia un noto imprenditore di Sastino di Livenza, ancora attesa per la Salma. Rosario Padovano. Muore nel fine settimana in Thailandia dove si era stabilito quattro anni fa con la compagna, sconcerto e dolore. A Sastino di Livenza ha suscitato la notizia della tragica scomparsa di Adriano Geretto, deceduto per un malore improvviso all'età di 63 anni a Puket. La notizia di oggi è che della Salma ancora non si sa nulla o meglio si stanno completando gli accertamenti e soprattutto si sta verificando tutta la documentazione per il trasporto della Salma in Italia. Per volontà dei familiari infatti i funerali si svolgeranno a Sastino di Livenza. L'uomo milionario lascia la mamma e un fratello oltre a svariati parenti. Per decenni è stato l'appuntato per eccellenza della stazione dei Carabinieri di Caorle ed è mancato pochi giorni fa lasciando comunque un senso di vuoto anche perché a suo modo ha fatto la storia della città negli anni del boom turistico garantendo sicurezza e normalità. Si è spento all'età di 85 anni il Carabinieri in pensione Federico Alberto. Una volta congedatosi dall'arma per raggiunti limiti di età è stato anche animatore del centro anziani Sandro Pertini e aveva creato i Vigili d'Argento, un corpo che veniva impiegato in forma di servizio d'ordine nelle varie manifestazioni organizzate sul territorio. Domani intanto pomeriggio i funerali alle 15 a Porto Santa Margherita. Furti e tentati furti negli ultimi tempi nel Porto Gruarese. Sono diversi i casi. Furti e tentati furti stanno caratterizzando il Porto Gruarese negli ultimi tempi. A Caorle è stato preso di mira un residente che ha lamentato di essere stato derubato due volte a distanza di 24 ore di una bicicletta e di uno zerbino a casa sua. A Porto Gruare i gnoti hanno cercato di entrare nel garage del condominio Altissimo danneggiandolo. Fortunatamente non sono riusciti a entrare. Per domani alle 18 a Caorle in centro civico è convocato il Consiglio Comunale con otto punti all'ordine del giorno. Spazio a tre mozioni. In primo piano il piano particolareggiato degli arenili. Si mette ai voti anche una variante parziale al piano degli interventi. A Jesolo Antonio Facco è il vicepresidente degli albergatori, nominata anche la giunta esecutiva dell'ente. Il Consiglio Direttivo dell'AIA, riunito dal neopresidente Alberto Maschio, ha deciso infatti il nuovo vicepresidente a seguire i componenti della giunta esecutiva. In foto vediamo il vicepresidente Antonio Facco, la giunta esecutiva composta anche da Amorino Dezzotti e Barnaba Berton. Ho accettato questa nomina con grande senso di responsabilità verso l'associazione e la città. Ha detto Facco, metterò tutto il mio impegno per il bene dell'AIA affinché l'associazione sia sempre più forte. Facco a 50 anni è sposato padre di due figli. Ebbene a Caorle di nuovo, taglio del nastro per la nuova sede della CNA, l'ufficio cittadino aperto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, operativo già da alcuni giorni al civico 46 di strada nuova, è stato inaugurato con una cerimonia introdotta dal presidente e segretario mandamentale della CNA del portoguarese Mauro Palamini. Pochi giorni fa intanto Sandona di Piave ha ospitato il raduno nazionale dei bersaglieri. Ebbene Portoguaro invece dal 25 al 27 maggio 2018 ospiterà il raduno nazionale degli autieri. L'amministrazione comunale ha promulgato l'ordinanza numero 45 che regola traffico e parcheggi in vista dell'importante appuntamento. In via Ambrosoli e Bertolini è istituito il divieto di sosta dalle 10 di venerdì alle 20 di domenica. Le vetture verranno rimosse con i carri attrezzi in corso martiri in area di fronte alla piazza, sottoposta già all'occupazione degli ambulanti del mercato settimanale. Resterà invece interdetta alle soste dalle 15 alle 18 di giovedì per consentire l'allestimento del palco per le autorità. Area interdetta alle soste per lo smontaggio lunedì prossimo dalle 8.30 alle 13. Divieto di parcheggiare in piazza Castello, esteso dalle 8 di sabato alle 15 di domenica. In piazza San Tommaso dei Battuti, divieto di sosta dalle 7 alle 20 di domenica e in piazza della Repubblica dalle 7 alle 20 anche per i residenti che posseggono il permesso. E giovedì alle 20.45 l'Egambiente del Veneto orientale ha organizzato una serata tutta dedicata alla mobilità sostenibile. Con Maurizio Billotto, presidente del Circolo Pascutto Geretto, si svolgerà l'appuntamento all'auditorio in biblioteca comunale di Via Roma a Ceggia. L'obiettivo è quello di illustrare le potenzialità dei mezzi in commercio e diversi utilizzi possibili relativi alle biciclette elettriche. Passiamo allo sport e in particolar modo al volley, playoff per la B1. Si comincia infatti mercoledì al Barbazza, gara 1 per quanto riguarda il volley Pulpiave contro lo storico avversario Iesi. Messe in archivio le finali regionali con l'Imoco Volley, Under 16 e la costruzione di Susanna Imoco sul tetto del Veneto. Con la conquista delle finali nazionali ora il gruppo si concentra tutto sulle gare che possono valere la promozione in B1, un traguardo difficile da immaginare all'inizio della stagione. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle nostre previsioni del tempo e tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Mercoledì. Tempo variabile. A tratti instabile specie sui rilievi, con nuvolosità alternata a parziali schiarite. Precipitazioni. Su pianura e costa probabilità medio-bassa 25-50% di qualche pioggia sparsa e intermittente anche a carattere di rovescio locale temporale. Sulle zone montane probabilità in aumento fino a medio-alta 50-75% nelle ore centrali di rovescio e temporali sparsi. Dalla sera probabilità in diminuzione ovunque. Temperature. Minime stabili in pianura e in lieve calo nelle valli. Massime in ripresa. Venti. In pianura generalmente deboli variabili a regime di brezza lungo la costa e pianura limitrofa. In quota deboli moderati dai quadranti orientali. Mare. Calmo o poco mosso.